Ecco qui la nostra amica Letizia, Letizia è stata operata il 5 luglio del 2011, quindi più di un anno fa. Letizia, ci racconti un po' la sua storia. Allora, avevo un problema, inizio così, no? Come vuole? Sempre senza iniziare, stavo sempre alla trafila. Dica quello che vuole, se è libera. Facendo questo intervento la vescica ha migliorato proprio al cento per cento. Le mani sempre calde con i piedi che avevo sempre semifreddi e anche l'equilibrio ha migliorato, per cui prima non potevo girare la testa e invece adesso sì, insomma, mi muovo bene. Posso alzare la testa, gli occhi, girarli. Invece prima no. Qual è la cosa che è proprio migliorata di più? La vescica. La vescica. Sì, quella tantissima. Senta, Letizia vuole dire qualcosa a chi la sta ascoltando? Eh, dico a chi ha questa mia malattia, diciamo, che è bello fare questo intervento perché non andrà più al bagno, diciamo così, che se adesso ci va sempre, dopo ci verrà pochissimo. Vuole aggiungere qualcos'altro? Ma sono dei medici bravissimi, dei dottoresse. Grazie, grazie. Bravi tutti quanti e quindi io non mi sono pentita di aver fatto questo intervento. Io la ringrazio molto Letizia e aspetto la sua prossima testimonianza tra sei mesi. Sì. Quando viene per il prossimo controllo. Sì, grazie. Grazie a voi, a lei. Grazie a lei.